Allora intanto la divisa in giacca e cravatta porta fortuna quindi la vedremo sempre così adesso le partite? Sì, al di là del meteo credo che sia anche un... Scaramantico? No, 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 assolutamente. Allora parliamo della partita, forse il più bel Pescara, questa è fuori discussione. Identità, grinta, corsa, voglia di far bene, il Foggia è stato letteralmente dominato sin dai primi minuti, complimenti. Grazie, anche se poi non è stato così nel senso che il primo tempo è stato aperto, è stata una gara aperta, io mi stavo tra virgolette divertendo e preoccupando nel senso che c'erano continui cambi di fronte, c'era la possibilità di fare gol, abbiamo corso anche dei rischi su alcuna incursione specie a sinistra del Foggia. Abbiamo difeso bene, abbiamo cercato di ripartire, lo abbiamo fatto con efficacia, abbiamo cercato anche di costruire, quindi non solo in ripartenze. Ed è una squadra, come hai detto bene tu, secondo me la bravura di questa squadra è quella di essere venuti in un campo del genere con la giusta personalità, con il giusto coraggio e con la giusta mentalità. Quindi questo credo che sia il punto focale di oggi che mi fa stare tranquillo, sereno fino a un certo punto perché poi so che in una piazza del genere non vorrei che i facili entusiasmi abbiano il predominio. Qui noi dobbiamo stare veramente sempre sul pezzo perché è un attimo nel calcio e quindi giusto l'entusiasmo, giusta la fiducia e l'autostima che si deve accrescere ma non che sfoci nella presunzione. Le voglio fare una considerazione, se c'è una nota negativa in questa serata così bella perché so che lei è un perfezionista, forse nella prima mezz'ora doveva essere un po' più concreto lì davanti il Pescara perché Cucupone a destra, soprattutto De Sogus a sinistra, si erano create delle superiorità interessanti, è d'accordo? Sì, sicuramente potevamo sfruttare meglio certe situazioni che si sono create, anche perché con le qualità sia di De Sogus che di Cucupone potevamo incidere in maniera superiore a quello che è stato fatto. Però diciamo che ne parleremo con la squadra, è sempre da migliorare, non bisogna mai accontentarsi e questo è il messaggio che vorrei far passare perché sono le vittorie quelle che poi ti portano alle sconfitte. Quando perdi tutti sono consapevoli che si può fare meglio, quando si vince invece magari un po' di sufficienza può passare, questo cercheremo di evitarlo. Ultime due da parte mia prima dello studio. La prima, parlare dei singoli non è mai bello, no? Soprattutto nel gioco del calcio, però io credo che la prestazione di Craia che ha abbinato quantità con il recupero di palloni, perso il conto industriale, ha qualità? Insomma è da leccarsi i baffi questo giocatore. Oggi sarei in difficoltà, onestamente, a parlare solo di Craia perché credo che tutti abbiano veramente dato una prova di quanto possono fare. E mi viene da sottolineare che soprattutto i giovani, noi non scordiamoci che giochiamo con 5 under, non è un obbligo, ma lo facciamo perché ci crediamo. E quando vediamo dei giovani come Craia, come De Zogus, come Milani, crescere in questo modo, siamo tutti felici, ma anche perché oltre al contributo dello staff, io credo che il contributo notevole sia dello spogliatoio. Perché i vecchietti, insomma, chiamiamoli così, veramente danno una grande mano a questi ragazzi nel crescere giornalmente e poi far sì che le partite riescano ad esprimersi in questo modo. Quindi a oggi c'è questo bel clima, bel connubio, cerchiamo di farlo proseguire. L'ultima da parte mia, scelga lei a quale rispondere di queste due considerazioni. Se non ci fosse stata quella deviazione in barriera con il Crotone, oppure io Colombo ora sono un po' in difficoltà perché entra Tupta, entra benissimo, entra Vergani, entra benissimo, ho sei attaccanti, non è facile, torno anche delle monache. Quale vuole rispondere? Ma sono contento di essere in difficoltà perché più giocatori validi si hanno, più probabilità di vincere le partite abbiamo. È chiaro che poi nella gestione sia noi dobbiamo essere bravi ma anche i ragazzi, come dicevo in conferenza pre-partita. Quando arrivi in una piazza del genere sai che c'è competizione a livello di ruoli e quindi ci sta che non esista una maglia da titolare, ma bisogna conquistarsela anche con cinque minuti. Quei cinque minuti possono diventare 15 o un tempo o una partita intera. Quindi l'importante secondo me è che sappiano sfruttare le occasioni quando vengono chiamati in causa e vengono chiamati in modo sovente, quindi hanno tantissime possibilità. Studio. Sì, allora una breve considerazione da parte mia e poi naturalmente la domanda tecnica la lascio a Fabio Ferraresi perché ho notato intanto che lei, Colombo, studia benissimo gli avversari. Non è la prima volta che accade perché avete messo a nudo, secondo me il Pescara oggi ha messo a nudo, le lacune del Foggia quando perdeva palla in fase di non possesso. Infatti il primo gol è arrivato proprio così. Sì, il problema è che a volte le studiamo anche quando perdiamo, solo che quando si vince sembriamo alti, belli, biondi e con gli occhi azzurri. Quando perdiamo abbiamo sbagliato i cambi, abbiamo sbagliato... questa è la vita d'allenatore, quindi fa parte del ruolo. Però a volte riusciamo a fare quello che a video o studiando gli avversari magari dove si percepisce che c'è una lacuna o una volontà da parte degli avversari di portare tanti uomini e si possano sfruttare le nostre caratteristiche e gli spazi che magari concedono. A volte magari rimane solo nella mente o sulla carta questa idea. Fabio Ferraresi. La domanda al mister stasera è difficile trovare un difetto a questa squadra, intanto complimenti. Quello che dicevamo prima con Massimo nella prima analisi è che ho visto una squadra che ha cercato tanto di più rispetto alle prime quattro partite di costruire nella prima manovra anche con i due centrali, i due terzini, l'escano che veniva fuori, con delle giocate codificate. Io credo che se voi riuscite a trovare questo connubio tra riconquista alta, come piace a lei, e anche la proposta abbiamo fatto tanta roba. Io credo che molte volte sia più semplice partire dalla fase difensiva, dare una connotazione, una identità alla squadra partendo da come vogliamo difendere, poi ti dice anche come dobbiamo attaccare. È chiaro che abbiamo cercato di dare un'identità anche a livello di mentalità, prima di tutto, magari tralasciando il gioco. E mettere insieme magari, come dicevo, anche perché nella fase offensiva è molto più complicata, perché basta quando difendi toccare una palla e metterla fuori e hai fatto il tuo. E quando attacchi invece devi, oltre che trovare delle interazioni fra gli stessi compagni, devi anche pensare che ci siano gli avversari che ti chiudono delle giocate, dei tempi, ti tolgono dei tempi, degli spazi. Però è chiaro che anche qui ci vuole un po' più di tempo, ma piano piano stiamo trovando anche una nostra identità nella costruzione, non solo quando rubiamo palla. Oggi si è vista, ma poi ogni partita ha una storia a sé, perché magari poi si trova una squadra un po' più chiusa, che ti fa giocare un po' più aperto, e magari sugli errori poi sei tu a subire delle transizioni. Quindi noi siamo stati bravi oggi a centrare l'obiettivo, perché abbiamo centrato la partita sotto l'aspetto tattico, mentale e tecnico. Quindi i ragazzi sono stati bravi. A volte magari è un po' più complicato, perché magari sono un po' più chiuse le partite e gli episodi poi incidono notevolmente. La salutiamo Colombo, però ci fa un saluto ai tifosi che sono rimasti a Pescara e che ci ha detto Max Mucciante poco fa che vi stanno aspettando in città. Allora, direttamente a Pescara, visto che è stato un dispiacere non averli qui e non poter festeggiare magari con loro direttamente qui allo stadio. Però diciamo che in questo momento li sentiamo vicini nonostante la distanza. La notte sarà lunga! Ad Alberto Colombo, la notte sarà lunga ci dicono da studio.